E allarme furti in provincia di Teramo. Tra ieri pomeriggio e stanotte i ladri hanno violato ben 12 abitazioni, molte delle quali in pieno centro storico. Ladri ad Isola del Gran Sasso, dove sono stati messi a segno 5 furti e alcuni sono risultati solo tentati. Ladri in varie zone di Teramo, Valvomano, San Nicolò, Via Bonolis, a ridosso del centro storico. Ladri anche a Morrodoro, dove sono stati razziati con tanti ori per un valore di 20.000 euro. 12 case violate in meno di mezza giornata, complice anche la festività di ogni santi, giornata in cui molte famiglie erano magari lontane da casa. Non sempre i delinquenti hanno potuto agire indisturbati. Ci sono stati casi, come a Teramo, in cui i ladri hanno rovistato tra cassetti e portagioie, mentre i proprietari dormivano tranquillamente. Monta però adesso la preoccupazione perché non si tratta più di episodi sporadici. Le famiglie vittime dell'assalto dei ladri stanno man mano presentando denuncia, ma denuncia a parte. Preziosa per gli inquirenti si conferma la collaborazione sia di chi è rimasto vittima del furto, sia di testimoni, persone che notano movimenti strani nei pressi di qualche abitazione, persone che notano macchine sospette, magari con a bordo personaggi non del posto mai visti in zona. Ad Isola del Gran Sasso, ad esempio, un ragazzo ha avvistato un Audi A6 bianca a girarsi lentamente in zona solo con un uomo alla guida. Ha verificato grazie ad un'app sul telefonino il numero di targa e che l'auto risultava rubata. Ha comunicato questa informazione subito ai carabinieri. Nel frattempo la macchina, probabilmente con tutta la banda a bordo, è sparita nel nulla. Non tutti i ladri riescono a sfuggire alle forze dell'ordine. Due pregiudicati di San Benedetto del Tronto, rispettivamente di 30 e 40 anni, sono finiti in carcere per il furto di una borsa e di un iPhone 5 trafugati da un'auto a Cologna Spiaggia. La loro Renault Clio, con cui tentavano la fuga, è stata bloccata in tempo dai carabinieri su lungomare di Giulianova.